Ciao sono Emiliano Galli dell'agenzia immobiliare Remaxi d'Alcasi, oggi mi trovo in via Marrentino 140, la parte bassa di Monte Spaccato vicino all'ingresso del raccordo, lì su si vedono i palazzini di collina delle Musee. Quello che vi presento è un immobile che si trova al piano semi-interrato, ma come vedete è parzialmente politerra con l'ingresso lì dove vedete quella staccionata anche per parcheggiare una macchina anche di grandi cilindrate. Quindi doppio accesso o scendendo questa rampa carrabile o percorrendo questo vialetto ed entrando direttamente nel fabbricato. Il vialetto si percorre anche abbastanza agilmente. L'appartamento è questo che si vede in basso, quindi ho anche uno spazio molto vivibile. Entriamo nella palazzina, è una palazzina di soli sei appartamenti ben tenuta. Quindi questo che stiamo facendo è il primo dei due ingressi con le scale. Chiaramente si può percorrere anche il secondo ingresso facendo la rampa, in quel caso non ci sarebbero le scale. Quindi porta blindata, eccoci qui. Quindi l'appartamento è stato completamente ristrutturato tra il 2022 e il 2023 dalla parte impiantistica, la parte estetica. Quindi entrandoci a questo soggiorno con angolo cottura e l'accesso alla corte esterna che è una corte molto comoda. Attualmente c'è la macchina, comunque entra una macchina anche di dimensioni grandi. Questo è l'affaccio. Qui dietro c'è un ripostiglio cantina intercavete, mi viene utilizzato molto ecco per per rigettare delle cose. Poi disimpegno. Prima camera da letto, le finestre da questa parte eccoci qui, sono un pochino alte. Si può sfruttare quello spazio sotto la finestra per mettere per esempio un'armagliatura oppure per mettere una cassettiera e quant'altro. Bagno con finestra anche qui alta, anche qui un bel bagno comodo, un bel box doccia, lavabo molto grande e altra camera da letto, questa che viene utilizzata come salottino perché anche questo bellissimo camino che è ben sfruttabile. Ok, quindi ci troviamo in via Marientino 140, un immobile al piano semi interrato ma comunque sbancato su più lati, completamente ristrutturato nel 2021-2022. Si presenta pronto per essere abitato, è uno spazio esterno più che vivibile dove si può parcheggiare la macchina quindi se stai cercando un immobile in questa zona con queste caratteristiche non esitare a contattarmi. Per vendere casa puoi fare tu le foto, mettendoci tutto te stesso. Ma con un agente Remax? Eccoci, come va? Hai un team di esperti che lo fanno per te nel migliore dei modi. Domini, come va? Hai у chocci, come va? Hai una domanda! Come va a fare tutte le foto, mettendoci tutto le foto e tornandoci tutto il prezzo. Voi amici, è una domanda! Per vendere casa! No, non è una domanda! No... Prendere casa! Qu'è questa domanda? Grazie a tutti.